Arresti domiciliari per il sindaco Antonino Fiaccato, per Agatino Macaluso, vice sindaco e per Giuseppe Natale, assessore comunale. Misure cautelari anche per alcuni componenti dell'amministrazione comunale di Santa Caterina Villarmosa per imprenditori e dirigenti pubblici. Ad alcuni di loro viene contestato anche il reato di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di vari reati contro la pubblica amministrazione. Dalle investigazioni è emerso un sistema concussivo, corruttivo, al cui vertice si imponeva il sindaco Antonino Fiaccato con il concorso di collaboratori individuati e nominati dallo stesso primo cittadino anche quali componenti della giunta comunale in carica tra cui spiccano le figure del vice sindaco Macaluso, dell'assessore Giuseppe Natale e di Calogero Rizza, ponte tra la componente politica e gli imprenditori. A supportare il sistema corruttivo la platea di imprese e di professionisti attratti dalla possibilità di ottenere incarichi e conferimenti di lavori, servizi e forniture dallo stesso comune. Il meccanismo per concedere gli appalti prevedeva un affidamento diretto fiduciario detto sotto soia. Il sindaco è riuscito negli anni a dirottare lavori pubblici per un ammontare complessivo di circa 7,5 milioni di euro a favore di imprese gradite in cambio di favori di ogni genere o appoggi politici. Contestualmente a Catania tre persone sono finite in carcere, 21 ai domiciliari, mentre per altre sei è stato disposto il divieto di esercitare l'attività di imprenditore per un anno e il bilancio dell'operazione fake credits shorts. Trenta le persone indagate accusate a vario titolo di associazione a delinquere finalizzata la commissione continuata di reati tributari, in particolare di indebite compensazioni aggravate dalla partecipazione di professionisti. Le fiamme gialle hanno anche sequestrato preventivamente 11 aziende utilizzate dagli indagati unicamente per perpetrare i reati tributari in contestazione e in corso l'esecuzione di sequestri preventivi finalizzati alla confisca di 9,5 milioni di euro.